Il pareggio contro il Gubbio ha impedito ai biancorossi di centrare la terza vittoria consecutiva e di scalare qualche altra posizione in classifica. L'1-1 di sabato è stato il quarto risultato utile consecutivo per il Diavolo, ma per come si era messa la gara sono tanti rimpianti in casa biancorossa. La squadra di Federico Guidi non è stata cinica nel capitalizzare le varie occasioni create ed è stata punita ancora una volta sugli sviluppi di un corner. Un problema è quello delle reti incassate da palla inattiva sul quale bisognerà lavorare maggiormente, come ha messo lo stesso Guidi nel dopogara. In avanti si continuano a dilapidare occasioni da rete. L'attaccante Bernardotto, seppur apprezzabile sul piano dell'impegno e della generosità, è rimasto nuovamente a secco, sprecando due chance clamorose che avrebbero potuto regalare il successo al Teramo. Il calendario intanto non concede pause. Domani alle 21 i biancorossi saranno di scena sul campo del Grosseto, nel secondo turno e fra settimanale. La gara contro il Gubbio ha sancito il ritorno in campo, a distanza di un mese dalla frattura alla costola, del centrocampista Domenico Mungo, il quale ha avuto anche un'occasione nella ripresa per segnare. Non è possibile non portare a casa una partita del genere subendo solo un tiro in porta. Quindi benissima prestazione, però non dobbiamo subire gol, perché non possiamo sempre subire dei gol del genere e purtroppo dobbiamo fare gol perché io non ho mai visto una squadra che arriva dieci volte davanti al portiere. E noi davanti al portiere ci arriviamo sempre. Quindi dobbiamo fare gol tutti a partire da me, perché pure io di sinistro la posso fare meglio. Per la trasferta di Grosseto, Guidi dovrebbe recuperare Marco Cucurullo, che ha saltato il confronto con il Gubbio per un piccolo problema muscolare. Non è da escludere tra i titolari il rilancio di Rillo e di Rossetti, ancora assenti per infortunio Rosso, Chiere Matenghe e Trasciani.